... Grazie. Buonasera a tutti gli amici di Teletrio, siete collegati in diretta con Fagiano. Oggi la festività del Corpus Domini, siamo in attesa che finisca la Santa Messa, in attesa della processione del Corpus Domini. Una buona domenica sera a tutti quanti voi che ci seguite. Buonasera a tutti gli amici di Teletrio, siamo in attesa che finisca la Santa Messa. Buonasera a tutti gli amici. Buonasera a tutti gli amici. Buonasera a tutti gli amici. Grazie a tutti. 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 a tutti.